Il Comune di Eboli cerca la figura di garante dei disabili. L'obiettivo sarà quello di tutelare le persone con disabilità, segnalando ogni ostacolo che ne impedisca l'autonomia e promuovendo azioni che favoriscano, si legge, la piena attuazione e tutela dei diritti delle persone con disabilità, con particolare attenzione all'integrazione e all'inclusione sociale. Potranno presentare domanda a coloro che sono in possesso di laurea in giurisprudenza, oppure lettere, filosofia, pedagogia, psicologia, sociologia, scienze politiche, scienze sociali, professori sanitarie o equipollenti e che possano dimostrare di aver svolto attività a tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità. Con questa nomina, dichiare il consigliere delegato alle pari opportunità Pasquale Ruocco, daremo attuazione al regolamento approvato e raggiungeremo un obiettivo importante per le pari opportunità, il secondo in questo settore dopo l'approvazione della Convenzione per il finanziamento allo Spartacus da parte del Dipartimento Nazionale per le pari opportunità. Si tratta, continua il consigliere, di una figura fondamentale per l'amministrazione, che sin da subito ha colto la proposta avanzata da Omnic. Il garante avrà un compito delicato, di proposta, oltre che di segnalazione di eventuali ostacoli alla piena realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, la cui inclusione nella nostra comunità, aggiungono da palazzo di città, riteniamo che non solo sia doverosa, ma anche un prezioso apporto per la crescita.